Cominciano tra poco più di una settimana i primi appuntamenti per la Real Mestranza secondo il programma della Settimana Santa 2023. L'associazione infatti sarà presente in cattedrale il 22 febbraio per la Santa Messa delle Ceneri e sempre nella Chiesa Santa Maria la Nova il 25 febbraio verrà celebrato il primo sabbatino di Quaresima dedicato all'Immacolata Concezione. Grande attesa per la cerimonia del passaggio di consegne nel Teatro Regina Margherita domenica 26 febbraio alle ore 9.30 le cariche capitanali entranti della categoria idraulici e lattonieri con i tamburi si daranno appuntamento davanti alla Chiesa di Santa Croce mentre quelli uscenti della categoria panificatori, pasticceri e cuochi sempre con i tamburi insieme ai rappresentanti dell'associazione, dei capitani emeriti, dei cerimonieri e delle altre categorie davanti alla Chiesa di Santa Lucia. Tutti insieme poi in corteo si sposteranno nell'atrio del palazzo municipale e lì incontreranno il sindaco e le autorità comunali. Il corteo poi si sposterà in teatro per il passaggio delle consegne e la cerimonia si chiuderà con il saluto del neocapitano della Real Mestranza per il 2023 il maestro Giuseppe Mangione. Il suo sabbatino, nonché il secondo, cioè quello del capitano, il 4 marzo dedicato alla Madonna della Provvidenza comincerà con una riunione di tutte le categorie nella Chiesa di San Giuseppe per un momento di preghiera e benedizione delle bandiere per poi arrivare in cattedrale per il passaggio delle cariche delle dieci categorie cioè portabandiera, labbardiere e portabaldacchino. Subito dopo la Santa Messa previsti i fuochi pirotecnici. Il giorno successivo, 5 marzo alle 19, la Chiesa di San Giuseppe ospiterà l'undicesima rassegna sulla letteratura musicale della Settimana Santa in memoria di Giuseppe Portoleva. Il 15 marzo le associazioni protagoniste della Settimana Santa si recheranno nel Palazzo Vescovile per un incontro di preghiera con il Vescovo della Diocesi Nissena. Lunedì 20 marzo il capitano e le cariche capitanali incontreranno il prefetto per la presentazione in prefettura alle 10. Nel pomeriggio invece per la Real Mestranza ci sarà un altro incontro di preghiera e momento di agape con i seminaristi, i responsabili del seminario e il Rettore nel Palazzo Vescovile. Il 22, 23 e 24 marzo si prevedono tre serie di esercizi spirituali nel mondo del lavoro nella Chiesa di Sant'Agata organizzate dall'Ufficio Pastorale Sociale del Lavoro e che si concluderanno con la celebrazione eucaristica preseduta dal Vescovo Monsignor Mario Russotto seguita dalla Via Crucis Cittadina. Si entra poi nel vivo della Settimana Santa con l'intronizzazione del Santissimo Crocifisso il martedì santo 4 aprile con la consegna del crocifisso in cattedrale da parte del parroco Gaetano Canalella per poi spostarsi prima nella Chiesa di San Giovanni per un momento di preghiera e infine nella Chiesa di Sant'Agata per l'intronizzazione. Il mercoledì santo 5 aprile è il giorno della processione. La tradizione prevede che la Real Mestranza renda gli onori al Capitano recandosi nella sua abitazione prima di spostarsi in centro storico. Il Capitano una volta raggiunto il Sindaco riceverà le chiavi della città e poi insieme alle autorità e la stessa maestranza in corte andranno verso la Chiesa di Sant'Agata. Il giovedì santo 6 aprile si prevede la visita nell'Istituto Penale per Minorenni nella sede nissena del Luigi e della Lilt. Nel pomeriggio invece la Real Mestranza sarà presente in cattedrale per la Santa Messa in cena domini. Il venerdì santo 7 aprile si prevedono altre visite la mattina all'ospedale Sant'Elia all'associazione Casa Famiglia Rosetta e in due case di riposo mentre nel pomeriggio la Real Mestranza si unirà al corteo del Santissimo Crocifisso Signore della Città. Visita in programma anche il sabato santo 8 aprile per il capitano insieme alle cariche capitanali i capitani emeriti e l'associazione Real Mestranza. Gli stessi si recheranno prima nella casa circondariale di Caltanissetta lì dove il capitano riceverà le chiavi dalla direttrice e poi si sposteranno nella sede del centro antiviolenza Galatea Ollus. La domenica di Pasqua, 9 aprile un altro corteo partirà dalla cattedrale sino in via la regina Margherita alla fine della celebrazione il capitano restituirà le due chiavi a lui consegnate durante la settimana santa. Nel programma viene inserita anche la partecipazione della Real Mestranza alla processione dell'8 maggio di San Michele Arcangelo e di una delegazione della stessa durante quella del Corpus Domini l'11 giugno.